L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è l'inizio di una nuova vita per 24 famiglie e 93 persone in tutto in fuga dalla guerra civile siriana. Questa donna viene da Aleppo e andrà a vivere ad Aprilia. Racconta di sentirsi molto fortunata. Dopo aver lasciato i loro paesi vivevano nella miseria di un campo profughi vicino Beirut, inottata la partenza per l'Italia. Qui in Libano non è permesso ai siriani lavorare, spiega questa ragazza, l'Europa per noi sarà molto meglio. Una nuova vita ottenuta grazie al progetto dei corridoi umanitari, frutto della collaborazione tra cristiani, cattolici e protestanti, comunità di Sant'Egidio, federazione delle chiese evangeliche e chiese valdesi unite sotto l'egito del governo per impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre. In un momento in cui si discute molto che cosa è l'Europa e che cosa sarà l'Europa di domani, vogliamo tornare ai principi fondativi. Il diritto, la solidarietà e l'accoglienza a tutti coloro che hanno bisogno. Se questo esempio italiano sarà seguito da diversi paesi europei e anche da paesi non europei, noi potremmo consentire a decine di migliaia di rifugiati di esercitare il loro diritto all'asilo in un modo sicuro senza essere soggetti alle terribili sofferenze dei trafficanti e delle strade dell'immigrazione. Con i corridoi umanitari arriveranno nel nostro paese nell'arco di due anni circa mille profughi, non solo dal Libano ma anche dal Marocco e dall'Etiopia.